Con Matteo Roggi, agente FIFA, siamo a Firenze per parlare delle squadre italiane in Europa. Che bilancio possiamo fare dei risultati che ci sono stati tra mercoledì e giovedì? Senza togliere niente a Firenze, qui effettivamente siamo a San Casciano in Val di Pesa. Per la precisione. Per la precisione. Un bilancio secondo me positivo, al di là dell'infortunio della Lazio. Poi ho visto un buon pareggio del Napoli, considerando che i campi d'oltremanica sono insidiosissimi. Quindi si può sperare in un ottimo risultato e ritornare a San Paolo. Un buon 2-0 della Juve, anche se il rientro in Turchia sarà molto difficile. Ma la compagina allenata da Conte è indubbiamente fortissima. Quindi non credo e spero che non abbia problemi per passare il turno. La Fiorentina straordinaria è andata a insegnare calcio in Danimarca. E' un Milan, secondo me, che ha giocato una partita straordinaria. La dice lunga l'ottima valutazione che ha preso su tutti i quotidiani il giorno successivo alla gara il portiere dell'Atletico. Il Milan, secondo me, è stato sfortunato. E' un risultato bugiardo. Quindi speriamo di un'ottima prestazione a ritorno. A proposito dei portieri, Perin, in questo momento ti sentite dire che farà parte della spedizione azzurra in Brasile? Io me lo auguro. Me lo auguro come procuratore di Mattia e me lo auguro come amico. Me lo auguro proprio col cuore. Vediamo, insomma, sono valutazioni difficili che aspettano al mister Prandelli. Quando ne parlo con Mattia, Mattia si limita a dire che la sua nazionale è il Genova. E che deve far bene lì per sé e per il Genova. Insomma, poi tutto quello che viene in più è di guadagnato. Che effetto ti ha fatto leggere alcune dichiarazioni proprio rilasciate a tuttomercatogweb.com da parte di Giuliano Sarti, grande portiere della storia della Fiorentina, della Juventus, dell'Inter, della Nazionale. Ha detto che Perin non ha compiuto grandi progressi rispetto all'anno scorso e che in questo momento, insomma, scuffe e sembra avere maggiori mezzi tecnici. Sì, devo fare una premessa. Giuliano è un nonno acquisito perché, insomma, la storia della famiglia Amrin legata alla famiglia Sarti e quindi poi di conseguenza la famiglia Roggi è legata alla famiglia Sarti e è lunghissima. Quindi, ripeto, Giuliano è un nonno acquisito. Detto questo, abbiamo avuto modo di parlare molte volte di Mattia. e Giuliano non è un suo estimatore, a Giuliano piacciono altri tipi di portieri. Però voglio invitare, visto che Giuliano ha detto che Mattia non ha compiuto nessun tipo di progresso all'anno scorso, questo mi fa pensare che Giuliano non abbia avuto la possibilità di vedere giocare il Genova quest'anno, giustamente, insomma, lui è un tifoso viola, si guarda la Fiorentina la domenica e non il Genova. E quindi mi riprometto qui, insieme a te, di andare a prendere Giuliano Sarti che abita nella collina di fronte, a casa, con la macchina, andiamo a Genova, mangiamo un bel pesciolino, ci vediamo alla partita, dopodiché tutto il mercato web rifarà l'intervista a Giuliano e vediamo cosa dice Giuliano. Per in, naturalmente, però, dovrà confermare le sue doti. Mattia deve far bene, se no deve pagare il pranzo a tutti. Facciamo due pranzi, almeno. Ne facciamo due, paga la cena, facciamo pranzi e cena, due pranzi, insomma, è lungo. Io non sono preparato per due pranzi, te sì, ma io no. In questo momento, comunque, chi è più forte, Scuffet o Perin? Ma non si possono neanche mettere sullo stesso piatto la bilancia. Mattia ha già giocato un campionato di B, uno molto difficile di A a Pescara, sta facendo molto bene a Genova in questo momento, una piazza altrettanto difficile. Scuffet è un ragazzo che io conosco perché ha fatto tutta la trafila delle nazionali, è un giocatore di indubbio valore, però è giovane. È giovane, ha giocato, se non sbaglio, tre o quattro partite fino adesso. Quindi, insomma, diamogli la serenità per poter crescere. Dico che non si possono mettere sullo stesso piatto la bilancia perché Mattia è in vantaggio di tre anni rispetto a lui. Quindi bisogna vedere Scuffet dove sarà fra tre anni. In questo momento non è una valutazione. Mattia è già, per me, un portiere, lo considero già, un non giovane. Scuffet è un giovanissimo. Ti sorprende, ti infastidisce il fatto che si parli quasi esclusivamente di Scuffet in questo momento? Ma perché mi deve infastidire? A me fa piacere, insomma. Le risposte dei ragazzi le danno sul campo. E poi io sono contento che finalmente in Italia si parli di ragazzi giovani. Invece di andare a pizzicarli sempre all'estero, a guardare gli altri campionati. E' bene far stare nel circuito italiano i nostri talenti italiani, che si chiamino Mattia Perin, che si chiamino Scuffet o che si chiamino Bardi. Purché giovani e italiani, va bene tutto. Questo lo dico da amante del calcio. Poi da procuratore di Mattia Perin io ovviamente ti fò Mattia. Questo mi sembra scontato. Come il procuratore di Scuffet ti fa Scuffet? E quello di Bardi ti fa Bardi.